Siamo alla quarta edizione del forum di sicurezza sul lavoro ed è con noi l'ingegner Piegari, presidente della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro. Ingegnere, può darci qualche indicazione in più sullo stato dei lavori per il rinnovo dell'accordo sulla formazione di RSPP-ASPP? Sì, oramai devo dire che siamo a buon punto. Dopo un periodo abbastanza lungo, abbiamo lavorato per circa due anni, l'accordo è pronto, è stato anche passato al vaglio delle parti sociali all'interno della Commissione Construttiva Permanente, c'è forse solo qualche ultimissimo piccolo ritocco da fare. Non stravolge ovviamente l'accordo precedente, ma risolve tutta una serie di piccoli problemi. Abbiamo precisato meglio i soggetti formatori, l'organizzazione, le lauree che danno luogo all'esonero dai moduli A e B, quindi tutta una serie di interventi. Sono stati rivisti un po' i contenuti dei vari moduli, ma sono rimasti sostanzialmente gli stessi, anche se l'intervento più massiccio viene fatto sul modulo B. Ci si lamentava dei nove macro settori, della difficoltà per poter svolgere l'attività di responsabile del servizio prevenzione, di dover partecipare a tutti i vari moduli B dei vari macro settori. Oggi andiamo a unificare, questo perlomeno sulla bozza ultima, andiamo a unificare il percorso formativo del modulo B in 48 ore, quindi una base comune e solo per alcuni settori avremo su quattro settori che abbiamo individuato un'aggiunta, quindi un B specialistico, dove abbiamo previsto una base comune di 48 ore per tutti e solo in alcuni settori un piccolo incremento di 12 o di 16 ore. Devo dire che qualcuno ci accusa di aver aumentato le ore del modulo B, ma in realtà non è così, perché se è vero che alcuni macro settori si partiva da un minimo di 12 e si arrivava a un massimo di 68 ore, c'era anche la necessità di dover partecipare a più corsi, invece oggi la base comune di 48 è comune per tutti, quindi viene meno questa necessità. Abbiamo però ridotto il numero di ore di aggiornamento, ripeto nella bozza attuale 20 o 40 e non c'è più quel problema che c'era una volta di 40 o 60 o in alcuni casi addirittura della somma 40 più 60. Abbiamo per esempio data attuazione a quanto previsto nel decreto del fare, quindi il riconoscimento di percorsi formativi fatti per altri soggetti, come dire se io sono RSPP e ho fatto il percorso formativo dei moduli A, B, C per RSPP, questo mi vale come dirigente, mi vale come preposto, mi vale come lavoratore? Bene, abbiamo fatto una tabella devo dire molto molto esaustiva e quindi comparando i diversi corsi e dando quindi la possibilità per chi ha fatto un percorso formativo di vedersi esonerato per tutto e quindi riconosciuto tutto in parte l'altro percorso formativo. Abbiamo rivisto per esempio negli allegati, abbiamo rivisto un po' l'e-learning, siamo intervenuti anche e sempre stiamo parlando ancora di una bozza, per esempio sulla formazione articolo 34, quindi dei datori di lavoro che vogliono svolgere direttamente i compiti del servizio prevenzione, prevedendo anche quella modalità che già avevamo previsto nell'accordo sull'articolo 37 di poter variare da rischio basso a rischio alto, da rischio alto a rischio basso qualora in quel settore, in quel settore ateco, i lavoratori per esempio in un settore ateco a rischio alto, ma tutti i lavoratori svolgono un'attività a rischio basso. Quindi diciamo abbiamo previsto diverse cose che adesso diventa difficile elencare puntualmente, ma io credo obiettivamente che abbiamo raggiunto un buon risultato, che sia un buon accordo, che risolva a tanti problemi che si erano posti in questi anni e quindi lo vedo sicuramente come un miglioramento e speriamo che venga visto così anche dal mondo esterno. Grazie. Grazie a lei, ingegnere.